Mr. Stellone è arrivata alla prima vittoria della sua gestione ma più che per questo è importante per la classifica e per il morale. Sì, sicuramente. Oggi volevamo vincere, avevamo questa voglia. Mattelli è una squadra che gioca bene, che lotta per i play-off, che gioca insieme da anni. Non era semplice, abbiamo sofferto in certi momenti, ma siamo stati in squadra. Abbiamo sofferto, abbiamo segnato, abbiamo sofferto ancora, poi è venuto subito il secondo collo con una grande giocata di Jacoponi. Una partita importante da parte di tutti, una vittoria importante per il morale, per la classifica, ma soprattutto per la testa che era quello che mancava fino ad oggi. Tra l'altro una vittoria che per adesso è condita anche da risultati positivi sugli altri campi. C'è da aspettare però di vedere cosa farà il Ravenna che gioca domani. Sì, sì, ma logicamente gli diamo un occhio perché il nostro obiettivo è il Ravenna in questo momento, ma sono tre punti che valgono tanto. Valgono tanto per la squadra, valgono tanto per il morale, per affrontare la settimana, per affrontare la partita di domenica. Dopo rigiucheremo dopo tre giorni, insomma, quindi soddisfatto e felice, soprattutto per i ragazzi. Sarà uno spirito diverso alla ripresa degli allenamenti martedì? Magolo, quello sicuramente. Insomma, vincere aiuta a vincere, aiuta a stare bene insieme ed è quello che ci serviva. Non abbiamo fatto logicamente nulla perché la strada è ancora lunga, ma abbiamo ancora 12 partite per recuperare quello svantaggio e speriamo che lavorando in questo modo e facendo prestazioni da squadra come oggi, dove non è fatto una partita eccelsa sotto alcuni aspetti, ma è stata eccelsa sotto gli aspetti che mi interessano in questo momento, quindi come atteggiamento di squadra, di voglia, di determinazione, di cartiveria, di sacrificio. Ed è quello che ci serviva. Grazie.